Ben venga questa presa di posizione, questa chiarezza alla quale si aggiungono le affermazioni del Vicepremier Salvini, del Presidente del Consiglio, direi che ormai ci siamo, ci siamo, il progetto del Veneto è pronto, è depositato presso la Presidenza del Consiglio dal 2 ottobre di quest'anno, 23 materie e sicuramente un bel progetto. Questo governo ha modo di scrivere una pagina di storia importante del Paese e lo farà con l'autonomia.